Malta ha annunciato un accordo per distribuire fra quattro paesi europei i 64 migranti salvati a largo della Libia dieci giorni fa a bordo della nave Alan Kurdi dell'ONG tedesca CIAI. Malta ha precisato che i migranti saranno divisi fra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. I migranti saranno trasferiti a terra da imbarcazioni maltesi, ma l'Alan Kurdi non sarà autorizzata a entrare nei suoi porti, hanno fatto sapere le autorità portuali della Valletta. Sia Malta che la Libia non hanno autorizzato l'ingresso nei loro porti di navi umanitarie sostenendo che le loro attività a largo della Libia incoraggiano i trafficanti di esseri umani.